Torna a salire il numero di tamponi in Puglia e si rialzano anche i nuovi contagi. 4766, secondo i dati del bollettino odierno, a fronte di circa 26.000 test per la rilevazione del virus, tornano purtroppo a salire anche le vittime del Covid-16 nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio sono 1.697, nuovi casi in provincia di Bari, 876 in quella di Lecce, 772 nel Tarantino, 529 nel Foggiano, 525 in provincia di Brindisi e 313 nella BAT. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 1.076.284, mentre il conto dei morti purtroppo sale a 8.309. In leggera risalita e ricoveri, soprattutto in area non critica, dove attualmente ci sono 536 pazienti, 25 invece sono in terapia intensiva, un dato che resta piuttosto stabile. Continua la crescita dei negativizzati che fanno scendere a 100.673 gli attualmente positivi al virus, mentre i guariti totali viaggiano verso quota un milione.